comando marina americani conquista spero di non trovare con la mappa col grattacielo sono impazzissimo si c'è sempre veicoli vediamo come c'è posso prendere l'elicottero non c'è niente non c'è l'elicottero non ci sono veicoli qua ma in che senso ma mi scusi dottore ma dai ma si sono già presi tu si sono pure la madre ma che è o salici salici per qua sali sali via 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 lo picchio lo picchio scoppiato si è data l'ipica entra dentro rompi la frontiera vai dritto vai dritto vai dritto oddio ok fai cagare a guidare non si governa sto coso si 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 no ma tutti così dicono c'è un masso simo con il fuoco davanti agli occhi ora il fuoco ora cosa c'è davanti è giù lo sto sboccando è andiamo in d2 guarda guarda come come dritto guarda come dritto la maggior parte dei settori è sotto il nostro controllo ma smettano di rompere le finestre morto 1 che sono fortissimo a 1 più 1 10 e si so fortissimo c'ho l'ho l'uber ma di no no in a al pacino c'ho davanti al pacino morto al pacino non era il pacino c'ho un altro vai ne vado patina 1 scano le montagne a tu madre sono morto james il tuo eroe ed è caduto si è un fenomeno sono fortissimo c'è un aereo puoi distruggerlo puoi distruggerlo no 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 non c'ho siamo morti quindi ho capito posso aiutarvi ok c'è un nemico dove è il nemico ma ok non c'ho più munizioni c'è un problema di elicottero sai prendo la fune Simo sono pazzo per Gesù hai amico ho dato un'altra lambata nel culo sua madre no da dietro Simo da dietro c'è uno eh ho annottato porco duuuu che cos'è che cos'è quel coso che cos'è siamo pazzi uno 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 fatto fatto altro no per cagare ma me vuoi fottere ma me vuoi fottere a me vuoi fottere me a me veramente ola vostra madre vostra madre vostro padre vostra sorella si adesso io ci sono uno dietro è scomparso la cosa mi so che per me non è dentro fatto uno c'è uno con la pistola fatto due nooo da dietro sto cecchino infame è corrotto mi spieghi che ci fa con l'SVK ma 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 non ti fidi del pilota veramente ok ci ho provato troppo forte fronte non parliamo seriamente ma si ma veramente ma tipo mission impossible ma che deve fare in confronto a me cioè parliamo seriamente simo ok non parliamo né più simo lascia stare dove andare così ma siamo due zio siamo due nel nostro team ma abbiamo preso E1 di cristo ho fatto doppia con lanciarazzi allora stiamo hanno un po' recuperato eh però siamo lì stiamo vincendo però abbiamo C1 l'abbiamo presa due la stiamo perdendo ok è finita la battaglia è vinta ok really really nice really really nice io mi son lanciato io mi son lanciato proprio col paracaduto io pure perchè muo è scoppiato l'oper perchè ma va caga mi va proprio caddo se si il settore Charlie è sotto controllo è uno morto 8 a 1 non so dove è l'1 ok questo che è morto ti salvo io perfetto morto perchè la stiamo perdendo sono in maggioranza loro ok ecco lo prendiamo heads oh il corco due mi ha scoppiato un po' il muore oh mi deve battere no granata in partenza lancio di rifornimenti pronto a partire si io non so come se non vivo ahia appena capisco dove sei si non morirmi su simo ero ok no c'era proprio il lucoso che cosa ho fatto davanti ho detto è fermo lì non ci sarà nessuno dentro il cannone quello è scoppiato proprio così ho detto vai andiamo siiii sono entrati pure 2 in macchina con me ahahah hai preso la bandiera obiettivo catturato e in sicurezza bersaglio neutralizzato ok il mio ranger è una bestia eeeh non c'è un razzi cos'è ricarica ne parliamo però con tu non c'ho più un muore non c'è più un muore non c'è più un muore atto uno atto uno a un altro eeeh vabbè ma stai calmo 800 a 400 e abbiamo tutto tranne f em 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 attento johnny cosa fai johnny dai amico cosa fai giorco nooo tieniti eeeh tutto calcolato l'ho visto in un film ok se se diciamo che se dove mi sta portando però mi sto abbiamo preso tutto veramente abbiamo preso tutto tranne ah sono tutti tuoi amici ma no si uuuh io li sto hitando tutti maaaaa ma 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 scusi ok si si penso funziona ancora ok ok ne ho uccisi due siamo morti perché un elio di merda con lanciarazzi ce la fai a rassarmi te prego nooo nooo il nemico si ritira oggi avete dimostrato quanto valente secondi in rianimazioni insomma insomma ma 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 Grazie.